Salve, sono Alex Ignazio93 e oggi vi parlerò di un film chiamato Joker che ho visto da poco e quindi ne voglio appunto parlare perché è il film del momento, il film che ha fatto impazzire tutti quanti oppure c'è chi ha paura che faccia impazzire tutti quanti, tipo l'America, la grande America che sin da subito ha creato un allarmismo insensato nei confronti di questo film che ancora prima di uscire in sala si è creato quest'aura di pellicola maledetta che può traviare le menti del popolo e spingerlo a fare stragi di qualunque tipo ora, io fossi nell'America mi farei due domande credo che buona parte di questi problemi si risolverebbero se si smettesse di vendere le armi nei supermercati ma questa è una mia piccola idea da stupido italiano oppure semplicemente se una persona ha un problema mentale ed è predisposta a questo tipo di violenza allora non è tanto questo film ma qualunque altra cosa cioè non solo questo ma qualunque altra cosa può farlo scattare quindi questo allarmismo è veramente ridicolo e assurdo comunque che praticamente ha fatto da pubblicità gratuita per tutti quanti però vabbè non importa questo film viene considerato da molte persone un capolavoro io no io non posso considerarlo un capolavoro è un buon film è davvero un buon film e la bontà di questo film deriva al 90% dalla performance di Joaquin Phoenix che è stato mostruoso in senso buono e può tranquillamente vincere l'Oscar per quanto mi riguarda il 5% è la regia il restante 5% è un po' la sceneggiatura però lì ci si perde quindi ovviamente questa recensione non la posso fare senza spoiler quindi se non avete visto Joker la mia opinione velocemente ve l'ho data ripeto è un buon film ma non è un capolavoro ah e soprattutto questo film si poteva anche chiamare Arthur e sarebbe filato lo stesso perché questo Joker non c'entra quasi un cazzo con gli altri tipi di Joker dei fumetti e non e quindi veramente poco sensato questo titolo l'ho fatto solamente per per attirare le masse infatti mi hanno incastrato sono riusciti nel loro intento quindi niente devo fare spoiler però ancora prima degli spoiler vorrei fare delle premesse però non si sa mai che poi spoilerò cose quindi niente vabbè a vostro rischio e pericolo allora vi ho detto già velocemente la mia opinione su questo film velocemente adesso poi andiamo a approfondire però ci sono dei discorsi da fare bisogna fare delle premesse ok intanto appunto non lo considero un capolavoro perché ho trovato parecchi difetti e secondo me un capolavoro è tale quando ha due cose ovvero veramente pochi difetti veramente poche cose quando ha delle cose oggettivamente ben fatte la soggettività quasi non esiste mentre in questo film secondo me ci sono tante cose che oggettivamente non vanno ok e soprattutto quando supera la prova del tempo secondo me non si può definire qualcosa subito un capolavoro bisogna vedere se nel tempo ancora la gente si ricorda di quella cosa come può essere l'ultima cena di Leonardo da Vinci il signore degli anelli sia come libri che come trilogia di film ok questi sono capolavori che se voi ci pensate appunto sono cose di vario tipo quindi quadri libri film a cui veramente si può dire poco puoi dire per i miei gusti a me non piace ma oggettivamente ci sono delle cose inattaccabili ok questa è la mia definizione di capolavoro e io sono veramente infastidito infastidito sì giusto scusate sono veramente infastidito che al giorno d'oggi la gente dica capolavoro troppo facilmente una cosa piace basta basta capolavoro oppure al contrario capolavoro oppure è uno lo schifo più totale ormai non ci sono più le vie di mezzo invece per me sto film è nel mezzo per molti già stare nel mezzo vuol dire che fa schifo no è un buon film Joker è un buon film niente di più niente di meno ok ovviamente queste sono tutte mie opinioni personali non sto dicendo che siete stupidi se considerate Joker un capolavoro però vi sto dicendo la mia opinione e vi chiedo scusa in anticipo se magari tra qualche minuto mi infervorerò e magari potrei sottintendere che io sono illuminato e voi no ma è solamente perché mi lascio prendere dall'emozione in realtà non sono un critico cinematografico sono uno spettatore come tanti altri che però ha la sua opinione e non credo che farò aprire gli occhi a qualcuno al massimo si può discutere eccetera eccetera Joker ve lo devo dire è un cinecomic tutti a dire inclusi quelli del cast il regista tutti quanti quelli che hanno lavorato a questo film hanno detto Joker non è un cinecomic è più di un cinecomic e questa frase non ha non ha senso è come dire Babadook non è un horror è più di un horror no Babadook è un horror da 10 capolavoro lo sapremo tra qualche anno è un horror da 10 ed è un horror non si può dire sarebbe stupido se uno dicesse più di un horror che cazzo vuol dire più di un horror ok cinecomic non è un genere cinecomic è una parola usata a sproposito per capire l'origine delle storie dei personaggi del film in questione cinecomic nel senso di film tratto da dei fumetti ok ma è una cosa che viene usata solo per questo tipo di film solo per questo tipo di storie ad esempio che ne so la prima tipo ha pure il signore degli anelli ok voi avete mai sentito parlare del signore degli anelli la trilogia come di cinebook film tratti da libri no assolutamente no sono film e infatti il signore degli anelli viene considerato fantasy avventura azione capito e quelli sono generi quindi cinecomic non è un genere partiamo da questo perché perché dico questo perché appunto tutti quelli di solito la parola cinecomic viene usata per intendere i film tipo la marvel cioè più più scanzonati che magari si hanno dei momenti di serietà ma la maggior parte delle volte sono praticamente persone con vestiti in modo buffo che si danno le botte che ci sono gli effetti speciali esplosioni eccetera eccetera no cinecomic vuol dire film tratto da fumetto poi che genere è quel film tratto da fumetto un altro paio di maniche i film della marvel sono cinecomic come lo è questo joker come lo è ad esempio la buttolia Persepolis è un cinecomic anche il film tratto da Persepolis perché qui c'è un fumetto è tratto da questo e non mi pare che venga detto Persepolis più di un cin non ha senso ok sono generi diversi dico anche questo perché già so che alcuni potrebbero dire è certo a te piacciono i film della marvel quindi appena si fanno film più seri più profondi più tristi più sofferti come quelli di joker automaticamente ti annoi perché hai il cervello pieno pieno di merda no 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 il motivo per cui sono meno severo con i film della marvel è perché so cosa aspettarmi perché i film della marvel sono più scanzonati sono più per famiglie e sono soprattutto film d'azione è come se io dicessi questo film di fast and furious non è come la vita è bella mi aspettavo di più no ovviamente fai qui veramente sono due pesi e due misure con joker sia dai trailer da come ne parlavano ci sono andato sono entrato in sala con le aspettative molto alte per questo adesso sono un po' deluso ok è proprio una cosa totalmente diversa spero di di essermi fatto di avere di essere stato chiaro è una permessa molto lunga ma è doverosa quindi ragazzi ha vinto il leone a venezia il festival di venezia sì in maniera cioè meritato probabile ma è un cinecomic a voi è piaciuto un cinecomic inutile che fate gli esperti di cinema perché joker e cinema i cinecomic alla marvel cinematic universe sono cinema hai capito scorsese sono cinema anche quelli a voi è piaciuto un cinecomic sì quindi adesso prendete questa realtà assimilatela e poi sfogatevi come vi piace buttatevi sotto la doccia bruciate i vostri vestiti come Jim Carrey in Ace Ventura quando scopri di averlo fatto con un uomo spoiler Ace Ventura bellissimo film anche se non è un capolavoro devo dire comunque fatevi scherzi è un cinecomic non dovete rompere il cazzo bene cinecomic però di che genere di un altro genere è noir è intimista possiamo dire thriller in alcuni modi dire soprattutto psicologico ok è stato anche detto che questo film che si chiama Joker si chiama Joker perché deve attirare il pubblico ora ci arriviamo è tratto cioè non è stato mi pare di ricordare che avessero detto che non avevano preso da nessun tipo di storia dei fumetti hanno semplicemente preso a parte che appunto non è possibile che tu prendi un personaggio di un fumetto e non ti ispiri a qualche storia di un fumetto è abbastanza difficile e infatti sono stati un po' dei bugiardone perché io conosco una storia che si chiama The Killing Joke e la conosco da quando ho dieci anni da quando avevo dieci anni grazie a questo bruttissimo inserto di Repubblica i classici del fumetto di Repubblica ok qui dentro ce l'ho dal 2003 quando è uscito e qui dentro c'è la storia più bella di Batman The Killing Joke e dentro c'è anche Joker ovviamente quindi mi sento in dovere di fare una comparison com'è che si dice di un paragone mi sento in dovere di fare un paragone tra alcuni elementi presi da The Killing Joke che è proprio il film vero e proprio però che poi sembro che voglio fare per forza l'antipatico a tutti i costi allora parliamo intanto delle cose positive perché ci sono delle cose che mi sono estremamente piaciute in questo film allora a parte andiamo nel dettaglio c'è Joaquin Phoenix che è stato spettacolare intanto il fatto che fosse così magro così magro che gli si vedono tutte le costole oppure la scena di quando lui è piegato perché cerca di di slacciare la scarpa di allargarla c'è una forza si vedono tutti i tendini le osse è una cosa incredibile assolutamente incredibile anche solo a livello fisico pazzesco bellissimo ho anche apprezzato il fatto che la risata fosse un disturbo un disturbo della mente non una risata come potrebbe essere quella tipo di un cattivo appunto dei fumetti ok e questo è stato interessante lo ho molto apprezzato molto interessante poi sempre riferendosi a The Killing Joke qui ci si ci si basa molto sulle cose non dette sul dubbio The Killing Joke è una storia molto bella perché ti lascia sempre con dei dubbi ora non voglio spoilerare troppo è una storia di 45 pagine ragazzi la potete trovare ovunque leggetela è bellissima però ad esempio in The Killing Joke tu non sai se Joker ha violentato Barbara Gordon per davvero oppure no non sai se alla fine Batman ha strangolato Joker o no ok e non sai neanche se il flashback sulle origini di Joker siano vere perché Joker in The Killing Joke dice che a volte si ricorda una storia a volte se la ricorda in un altro modo quindi quello che tu hai appena letto potrebbe essere una delle tante versioni e questa cosa c'era anche nel Joker di Heath Ledger del Cavaliero Oscuro guarda caso forse perché The Killing Joke appunto è la storia più bella di Batman la butto lì quando Heath Ledger comunque il Joker del Cavaliero Oscuro per tutto il film quando dice vuoi sapere come mi sono fatto queste cicatrici ogni volta cambiava la storia perché appunto per riferimento a questa cosa di The Killing Joke che non si sa mai qual è l'origine del Joker e già questo è un punto un po' a sfavore di questo film perché secondo me appunto il Joker è uno dei pochissimi personaggi che non dovrebbe avere delle origini poi qua appunto ti lasciano il dubbio se quello che hai visto è reale o meno questo l'ho apprezzato però molte cose secondo me sì c'è quella teoria che vuole che tutto il film che abbiamo visto in realtà è tutta una una fantasia di Arthur per giustificare la morte dei coniugi Wayne perché praticamente in questo film viene fuori che se i coniugi Wayne sono morti è indirettamente colpa di Arthur che ha scatenato i seguaci vestiti da clown eccetera eccetera però secondo me no perché questo film quando non vuole farti capire delle cose ci riesce quando invece vuole cioè allora praticamente questo film la forza di questo film è quando ti rimane il dubbio ma quando si tratta di illusioni ottiche o cose varie è a prova di scemo perché a un certo punto c'è tutta quella parte che ti fa capire che la sua il suo rapporto con la vicina di casa era tutta un'illusione ok proprio ti fa vedere lo stacco farti capire qual era la realtà che lui se la immaginava eccetera eccetera ecco lì il film ti sta dicendo dove è l'illusione quindi immagino che per coerenza dovrebbe dirtelo sempre se non te lo fa vedere vuol dire che quello che hai visto è reale e quando non hai visto che ti può venire il dubbio e quella cosa è bella spero di essermi spiegato bene questo per dire che tutto quello che abbiamo visto in questo film è accaduto realmente e poi lui è finito all'Arkham Asylum va bene ok perfetto c'è anche quel fatto che uno dice ma come mai proprio inizio film si vede lui che sbatte la testa contro la porta della stanza di un manicomio che è proprio quel manicomio perché è tutto bianco eccetera eccetera come è possibile uno potrebbe pensare che già c'è stato in manicomio ma quando poi lui va appunto al manicomio per prendere i documenti di sua madre chiede effettivamente a quello dei documenti ma come si finisce qui quindi capisci che in realtà lui non c'è stato tutto questo secondo me è un modo quella scena lì che vediamo inizio film e che per breve tempo di lui che sbatte la testa è un flash forward semplicemente un flash forward messo lì per confonderti la mente ma io non ci casco per me la maggior parte delle cose sono vere e poi è finito all'Arkham Asylum va bene per me è così però le mie prove sono valide tanto quanto quelle degli altri ma sinceramente io non ci vedo non voglio vederci più del dovuto in questo film è inutile farsi tutte queste pippe mentali che poi loro vogliono fartele fare tipo il fatto che tutte le donne con cui lui interagisce a parte la madre sono di colore la prima psicologa la vicina di casa e c'è anche la figlia che è anche lei di colore vabbè la donna sull'autobus quella la smetta di importunare mio figlio e poi l'altra psicologa se ci vado in caso sono tutte donne di colore che cosa vuol dire che alla sua psicologa lui ha associato una figura femminile quindi la sua testa no sono cose lì fatte per far parlare semplicemente e basta ok la cosa che ho apprezzato di più di questo film per quanto riguarda il non detto riguarda proprio la madre di Arthur Penny Fleck perché? perché per quello che ne sappiamo noi Penny avrebbe potuto essere nel giusto perché noi in realtà non sappiamo se Thomas Wayne sfruttando il suo potere ha modificato le carte in realtà non c'è una vera una vera e propria prova che Arthur sia stato veramente adottato o è che appunto quindi era tutta un'invenzione della madre perché il film vorrebbe farci intendere ed è anche il motivo per cui Arthur poi uccide la madre perché la considera una bugiarda perché perché c'è la versione a cui tu saresti portato di più a credere è che lei era pazza ha avuto in realtà una relazione con Thomas Wayne perché c'era la fotografia ma anche lì poteva essere stata falsificata in qualche modo ok poi Thomas Wayne l'ha lasciata l'ha licenziata lei è diventata ossessiva e per fare leva su Thomas Wayne ha adottato questo ragazzo dicendo che era suo figlio però nel frattempo l'ha fatto anche abusare a un suo fidanzato dell'epoca ed è per questo che lui è diventato pazzo c'è anche la scena lì abbiamo trovato suo figlio legato a un termosifone e quindi è molto affascinante questa cosa è un bo potrebbe essere come no la verità che ha accettato lui è che lei fosse una bugiarda e se ne è liberato ok e in realtà purtroppo le cose positive per me finiscono qui perché questo film secondo me aveva tanti obiettivi però si perde in un bicchier d'acqua ora cercando di fare ordine che questo video sarà veramente lunghissimo già lo so complimenti se arrivate fino alla fine nei primi minuti di film si parla di Gotham e della spazzatura sciopero della spazzatura quindi vuoi parlarmi della spazzatura? no diciamo che quella spazzatura viene usata solo per fare scena a livello visivo e poi per farti capire sin da subito che è una città veramente pietosa infatti poi c'è Thomas Wayne che dice mi candiderò come sindaco perché sono l'unica speranza dei cittadini bla 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 allora si parlerà magari dei dei malati che non vengono capiti dalla società che appunto hanno dei problemi e vengono abbandonati a loro stessi perché vengono tagliati i fondi ma anche la società stessa non come dice lui verso la fine del film nessuno cerca di entrare più nei panni dell'altro la società è priva di empatia che comunque è una cosa molto attuale ok è priva di empatia quindi anche se tu hai un problema gli altri ti giudicano come se tu dovessi comportarti in maniera normale come se tu non avessi quindi ho detto ok si vogliono concentrare su questo allora no poi c'è anche la cosa delle armi perché gli danno un'arma e lui dice no non si dovrebbero usare le armi e poi lui uccide delle persone perché ha un'arma ok e poi quell'arma se la porta in un ospedale per bambini e viene licenziato per questo tra l'altro lui dice che è una pistola giocattolo però il suo il suo datore di lavoro il suo capo crede di più a quell'altro perché quello è sano di mente quindi è più disposto a credere a quello lì che a lui che dice una pistola giocattolo fosse stata una persona senza malattie mentali probabilmente avrebbe detto vabbè fammela vedere e tutto si risolverà comunque Arthur stava mentendo quindi in realtà ha avuto quello che meritava va bene la cosa buona di questo film almeno secondo io avevo paura che ti facesse empatizzare troppo con lui quando alla fine c'è un momento di rottura sia il fatto che appunto lui è bugiardo eccetera eccetera però se ancora ancora non te la prendi con gli altri anche se lui ha mentito sulla pistola il punto di rottura deve essere credo quando uccide uno dei suoi due ex colleghi quello è il momento in cui dici ma perché l'ha fatto non ce n'era motivo questo film è incredibilmente prevedibile il che non è per forza un male però giuro a parte la cosa dell'adozione il dubbio che fosse che lui fosse il fratellastro di bruce wayne che quindi joker e batman fossero imparentati a parte questa che non me l'aspettavo proprio tutto il resto qualunque altra cosa io l'avevo prevista tipo dieci minuti prima ho detto ok si arriverà subito un momento in cui succede questo questo e quest'altro il che non è un male però boh vabbè sono rimasto sulla poltrana privo di emozioni tipo i robot vabbè nonostante fossi comunque estasiato sempre dalla performance di Joaquin Phoenix quindi ci sono troppi argomenti che praticamente si vede che questo è un film per vincere l'oscar proprio se solo Joker fosse stato di colore mannaggia peccato che ci serviva un bianco pensate che bello mettere uno di colore con problemi mentali con la società brutta e cattiva in cui gli succedono tutte le cose peggiori del mondo voi pensate un attimo cos'è che può succedere di brutto a una persona che la fa impazzire e poi diventa arrabbiata con la società succede ogni cosa ogni singola cosa anche il fatto che la sua performance orribile da comico viene poi mandata in televisione peccato che questa ce la siamo spoilerata con il trailer e lì sarebbe stato veramente un tuffo al cuore lì se non avessi saputo dal trailer mi sarei un attimo dispiaciuto perché ok tutto questo per dire che si perde ha tanti argomenti di cui vuole trattare e poi non ne approfondisce mezzo è un miscuglio di roba poi questo questo personaggio si fa trascinare dagli eventi io credevo che la come si vedeva dai trailer tutti quelli vestiti da clown sarebbero diventati tali cioè questa rivolta sarebbe iniziata nel momento in cui lui magari andava in televisione si faceva vedere come Joker eccetera eccetera no in realtà questa cosa dei clown succede per via dell'incidente incidente in metropolitana perché un insieme di coincidenze perché Thomas Wayne prima aveva detto che tutti quelli che protestavano erano dei pagliacci lui vestito da clown uccide tre pupilli di Thomas Wayne quindi la gente comincia a fare rivolte in nome di questo clown misterioso però non è che lui cioè è stato proprio una botta di culo cioè non è che lui come pensavo in quanto Joker principe pagliaccio del crimine ha organizzato tutto per farla pagare a Thomas Wayne no lui praticamente diventa Joker negli ultimi boh dieci minuti di questo film e comunque anche in quegli ultimi dieci minuti è un po' un po' una merda come Joker scusatemi ma come dice in The Killing Joke l'unica differenza fra me e tutti gli altri è una brutta giornata e in questo film lui lo dice lui mentre fuma non mi ricordo chi dice ho avuto una brutta giornata sì caro mio ma non vale inutile che mi fate queste citazioni ah ah The Killing Joke perché Arthur dice anche che lui ha avuto cioè lui ha sempre pensieri negativi ogni giorno della sua vita è brutto quindi lui non ha avuto una brutta giornata lui ha avuto tutta la vita brutta e allora lì il senso del Joker che chiunque di noi tutti dire ah questo film ci fa capire che chiunque di noi può essere Joker no lui no lui era predisposto per essere un violento per fare cose ma cioè grazie al cazzo ha avuto una vita brutta ha avuto tutta la vita brutta lavorava come clown cioè se avesse lavorato in un fast food si sarebbe vestito da da dog gigante e allora lì non si sarebbe vestito il Joker c'è troppe troppe forzature lo capite qual è il bello del Joker è una giornata non tutta la vita è una giornata che ci differenzia da lui ed è una linea sottilissima qui la linea non è sottile per niente capito quindi ti viene anche da chiedere ma non resistono altre persone come Arthur Fleck in questa città o nel mondo perché giusto giusto lui è quello che diventa Joker spara eccetera eccetera perché è il protagonista del film non c'è altra spiegazione e quindi l'ho trovata una trasformazione veramente poco naturale fosse stato una persona normale a cui in un giorno gli capitano le cose più brutte del mondo come in The Killing Joke allora lì avrei capito e avrei detto bravi bravissimi ma lui prende mazzate dall'inizio alla fine non c'è neanche una persona bella in questa città e allora grazie al cavolo che impazzisce è troppo facile così troppo semplice allora tutti dovrebbero essere Joker per davvero tutti tutti quanti e nel momento in cui lui uccide sua madre e la soffoca e dice io credevo di vivere una tragedia adesso so che la mia vita è una cazzo di commedia una cosa perché lo dice così serio se è davvero diventato già un po' Joker in quel momento in cui dice la mia vita è una commedia perché non ride mentre uccide sua madre quanto io quanto io l'ho convinto che si sarebbe messo a ridere mentre la uccideva invece no perché non perché non ride mentre la uccide perché non ride ormai sempre cioè nel momento in cui lui va in televisione è tutto serio fa una battuta del cazzo black humor neanche tanto chiede e la signora non si scherza sui bambini morti queste cose qui e lui fa ah no che scusate scusate ma che scusate già arrivati a quel punto che siamo alla fine del film doveva essere in piena estasi come dice in the killing joke Joker dice a Batman tu non lo una cosa del tipo la vita è una bugia cioè la vita non ha senso la vita è davvero una commedia allora perché non ridi perché l'unica cosa che puoi fare nel momento in cui sei come Joker che è folle ma è una follia lucida cioè la cosa affascinante del Joker è che lui non è semplicemente pazzo non è che è nato con dei problemi mentali ok lui è come se avesse capito il mondo per quello che è davvero e quindi di fronte alla follia del mondo non può che ridere è una commedia lo dice anche nel film ma alla fine del film lui è ancora molto serio e addirittura lì succede una cosa che mi ha dato un fastidio bestiale ovvero quando davanti a Robert cioè a Robert De Niro non mi ricordo già più come si chiamava il il personaggio no non me lo ricorderò mai come si chiama il personaggio gli dice tu sei disgustoso pure tu come tutti quanti sei mai uscito da questo studio eh se io quelli della Wayne sono morti li ho uccisi io e tutti a piangerli perché Thomas Wayne li ha pianti in televisione ma fossi morto se quelli come me fossero morti se io morissi sul marciapiede voi mi calpestereste nessuno una lagna cioè tu a fine film che dovresti essere ormai diventato Joker al 100% che dovresti ridere di questa follia no è una lagna tutto a fare gna 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 allora in quel momento quello non è Arthur Fleck che non è Joker non è il personaggio è lo sceneggiatore che prepotentemente entra nella storia e deve dire un messaggio che era fottutamente ovvio sin dall'inizio e questa è una caduta di stile che mi ha dato un fastidio bestiale proprio fuori dal personaggio lui altro che Toc Toc lui doveva ridere di tutto quanto doveva dirlo ridendo invece di piagnucolare come una fighetta lui doveva ridere stavolta sinceramente non solo perché era un disturbo fisico psicologico poi sparava al conduttore quindi questo non è Joker questo è uno che guarda caso voleva fare che guarda caso c'ha il problema della risata e vuole fare il comico tu pensa se avesse avuto il problema della risata ma lavorava al McDonald's ma guarda caso ha il problema della risata e vuole fare il comico e si veste da clown ma guarda che coincidenza una roba una roba pazzesca quindi questo Joker mi fa veramente cagare posso dirlo che mi fa veramente cagare se fosse chiamato Arthur fosse stata la storia di un uomo distrutto nella sua vita sarebbe stato perfetto perché non si chiama Arthur o in qualunque altro modo perché altrimenti la gente non andava al cinema a vedere questo film ok quindi al momento da un punto di vista cinematografico il mio Joker preferito è quello di Heath Ledger perché Joker è anche un signore del crimine è una persona molto intelligente è perfino il Joker di Jared Leto ha queste caratteristiche ah non ho anche detto appunto che Joker nella sua follia ha un senso dell'umorismo tutto suo mentre Arthur ride a caso cioè comunque lui non ha senso dell'umorismo glielo dice anche sua madre ma i comici non dovrebbero essere divertenti anche qui ha un umorismo di merda cioè voi mi state facendo difendere il Joker di Jared Leto a me sui squad è piaciucchiato più o meno però io quando ho visto la prima volta la scena del Joker di Jared Leto che dà un bacino al poliziotto dopo che lo ha fatto cagare sotto lì ho riso ma è quella risata però tu sai che comunque è una cosa brutta e questo cioè il Joker dovrebbe farti ridere anche se fa cose brutte come appunto nel Cavaliere Oscuro Heath Ledger fa delle cose bruttissime ma nelle sue movenze ogni tanto una risata te la strappava come quando va via dall'ospedale preme il pulsante e poi tipo che il telecomando è inceppato e quindi tutto buffo e poi esplode e va via quella era anche la bravura dell'attore riposi in pace e invece questo Joker è insipido veramente veramente insipido quindi non nego che è una storia interessante per quanto riguarda un uomo con dei problemi e la società non lo accetta ma come Joker non c'entra assolutamente niente questo non è Joker come dice Matioschi poteva anche chiamarsi il pagliaccio Baraldi ed era la stessa cosa ok veramente veramente io non a me piace un sacco Joker quindi mi dispiace vederlo così però è un capolavoro sì chiaramente Joker è un capolavoro e non ha assolutamente dei punti oscuri che ad esempio l'identikit no cioè lui più o meno come è come periodo credo sia l'81 mi pare di aver capito che è l'81 più o meno 80 vabbè comunque siamo lì ad esempio l'identikit ok come lo hanno fatto cioè non l'hanno fatto perché quando cioè quello che dà inizio a tutto è quando lui spara ai tre della Wayne Enterprises eccetera eccetera perché gli spara perché loro lo maltrattano perché lo maltrattano perché loro prima stavano importunando una signorina poi lui ride perché ha questo problema e poi loro se la prendono ma la signori cioè come fa non c'era nessuno in quella metropolitana non c'era nessuno dubito ci fossero telecamere perché all'epoca figurati come fanno sono morti tutti come fanno a sapere che sono stati uccisi da un clown l'unico modo è che alla notizia della morte di questi tizi la signorina ha fatto due più due ha detto c'era questo qui vestito da clown e allora come cazzo è possibile che nel ci sono dei dubbi alcuni dicono che indossasse una maschera altri hanno detto che era truccato hanno detto ma poi scusa lui appunto non indossava una maschera quindi che dubbio ti viene in mente l'unica fonte possibile dei giornali è sta signorina qua possibile che non ha fatto un identikit oppure oppure c'è un'altra possibilità magari lei grata a questo qui che ha ucciso sti stronzi ha testimoniato dicendo come simbolo che era un clown ma che forse indossava una maschera eccetera eccetera però che cazzo questo è una di quelle cose che non mi interessa se c'è il dubbio o no fammi vedere tra la folla verso la fine che c'è anche lei che quindi tu ricolleghi dici caspita quindi anche lei sin dall'inizio era favorevole a quello che ha fatto lui uccidendo quei tre invece questa cosa rimane così si dice che è stato uno vestito da clown come fanno a saperlo solo quella signorina poteva saperlo c'erano altre persone io non me ne sono accorto se c'erano altre persone allora ho sbagliato io tutto questo discorso non ha senso ma mi pare di ricordare che non ci fosse nessuno perché altrimenti Arthur credo che avrebbe sparato anche a tutti gli altri per non lasciare testimoni credo o almeno si sarebbe visto magari lui che viene visto da una persona e poi corre bellissimo poi come corre Joaquin Phoenix bellissimo è come se indossasse sempre delle scarpe da clown perché corre in maniera tutta bellissimo e poi soprattutto ma gli hanno dato una rivoltella la rivoltella non ha sei colpi quanti colpi ha io li ho contati ogni volta che in un film ci sono le sparatorie io li conto i colpi per vedere se sono stati attenti no io se non sbaglio ho contato otto colpi una rivoltella dovrebbe averne sei ho contato male io poi il suo amico gli ha dato proprio i proiettili contati o anche altri di scorta perché un proiettile già l'aveva sparato sul muro però io comunque ne ho contati sette otto e una rivoltella dovrebbe averne sei però vabbè si vede che quando un film è un capolavoro non c'è bisogno di contare i colpi perché chi se ne frega poi tutti quanti a dire ah questo film è bello perché è molto realistico è molto verosimile cioè appunto realistico secondo me è verosimile più che realistico c'è differenza perché realistico vuol dire che va come va nella realtà e nella realtà un uomo che a parte un uomo che non ha mai sparato in vita sua che riesce a prendere tutti e tre con una precisione da cecchino vabbè a parte il terzo che un attimo lo fa zoppicare ma gli altri due pa pa e l'altro pa e poi la schiena proprio muah non l'ha mancato neanche per sbaglio il rinculo non l'ha sentito magro com'era senza addestramento gli si doveva lussare la spalla credo comunque un minimo di fastidio doveva provarlo invece è pa 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 va bene ma poi anche la cosa di Bruce Wayne perché questo bambino che c'ha una villa gigante sta al cancello di casa sapendo poi che c'è una rivolta contro la sua famiglia fanno andare questo bambino per il giardino senza protezioni quindi se lui gli avesse puntato contro una pistola Batman fine già morto da bambino ma poi lui gli fa i giochini di magia e fino a lì ok poi però lo tocca gli mette le mani in bocca e lo fa sorridere ma anche da bambino a meno che non si scopre che pure Bruce ha dei problemi mentali ma può essere mai che ti fai toccare da uno sconosciuto in bocca cioè anche un bambino farebbe no no impazzirebbe invece per fare la scena figa di questi due che forse sono fratellasti o comunque questa è la scena di loro che tu lo sai che in futuro saranno nemici no e quindi niente facciamo toccare poi arriva Alfred perché non fosse non fosse arrivato Alfred ancora era lì a mettergli le mani in bocca nelle orecchie ovunque che schifo cazzo molto realistico sicuramente ma poi ripeto a meno che Bruce Wayne non ha dei problemi mentali che poi in teoria anche lì è sbagliato perché Bruce Wayne i problemi mentali ce li ha dopo la morte dei genitori non prima ok non ha senso io posso capire tipo in it che c'è Georgie che è un bambino veramente piccolo e il clown dentro il tombino è buffo non come quello dei film quello fa paurissima ma nel libro c'è scritto che è un clown molto buffo quindi un bambino piccolo vede un clown buffo posso capire che boh si fida ma Bruce Wayne non è così tanto piccolo e quello non è neanche vestito da clown è una persona normale che ti prende cioè veramente e poi cazzo veramente veramente ancora mi avete fatto vedere la morte dei genitori di Bruce io ho visto veramente la morte dei genitori di Batman per la ventisettesima volta ma anche basta io credevo l'avessero capita allora facciamo così nel prossimo Spider-Man fammi un flashback in cui muore zio Ben perché non ne ho abbastanza quanto sarebbe stato più elegante e quanto avrei sofferto veramente meno se si fosse visto con G. Wayne con Bruce che scappano si vede quello con la maschera che si accorge di loro e va da loro li segue quindi tu che non sei uno spettatore coglione capisci cosa sta per succedere e poi dopo un po' vedi che poi è una cosa che si vede comunque Bruce in piedi e poi i suoi due genitori morti lo capisci che cosa è successo e invece no di nuovo devono farti vedere lui che viene sparato la collana di perle che caschi il mondo si deve sempre spezzare almeno in Batman v Superman guardate che cosa dove siamo arrivati almeno Zack Snyder in Batman v Superman l'unica idea veramente carina è stata quella di far sì che la pistola che la pistola che la collana si spezzasse per colpa della pistola che uccide Marta almeno è un modo buffo e creativo di vedere la cosa di no qui le spara o cose varie le strappa la collana e poi basta io non voglio giuro ora tra poco ci sarà tra poco in futuro ci sarà il Batman di Robert Partinson che per me potrebbe essere una gran figata non fatemi vedere di nuovo i Wayne che muoiono nel vicoletto basta per l'amor di Dio basta basta ok credo di aver detto tutto in realtà veramente io ieri con mio padre abbiamo parlato in macchina dopo per ore ci sono state man mano che si andava avanti per ore abbiamo trovato delle cose che non ci hanno convinto però in generale credo che le cose più importanti le ho dette al solito se c'è qualcos'altro di cui vogliamo parlare perché immagino che la maggior parte di voi non saranno d'accordo con me mi si potrà causare di essere un idiota però va bene però intanto se c'è qualcosa di cui voglio parlarvi lo metto nei commenti magari voi volete parlare di qualcosa ne parliamo in generale quindi questo film ripeto è buono non lo rivedrei mai e mi sono appena ricordato un'altra cosa che volevo dire ovvero che comunque questo film tutti lo considerano allora bisogna capire che un film se ha dei toni molto seri molto cupi non è per forza un capolavoro ok e poi se proprio vogliamo dirla tutta nonostante quest'uomo ha fatto una vita terribile tutti cattivi con lui tutte tragedie non ho sofferto così tanto guardando questo film quanto ho sofferto con un altro cinecomic molto serio che però nessuno ha nominato quindi come se Joker fosse il primo a cercare di fare una cosa del genere ovvero Logan Logan è un cinecomic molto più pesante di Joker molto più pesante nonostante ci siano persone coi superpoteri perché non è quello che rende ridicolo o ridicola una pellicola voi mi volete dire tipo che The Boys è una serie tv ridicola perché la gente dei superpoteri no è scritta da Dio quindi nonostante i superpoteri che per molti automaticamente vuol dire è una serie della madonna Logan uguale Logan veramente io sono uscito dal cinema col cuore pesantissimo invece io qua nonostante avrei dovuto soffrire tranquillissimo io ero tranquillissimo quindi secondo me non è neanche tutta sta sofferenza incredibile e sinceramente non ho alcuna voglia di credo che non rivedrò mai più Joker forse no forse un'altra volta lo voglio vedere per sentirlo in lingua originale devo dire che qui il doppiaggio italiano è stato veramente buono Giannini mi ha sorpreso perché con Venom non so che cosa si fosse fumato ma qui è stato bello e non ricordava il Joker di Tledger quindi bravo bravo Giannini applauso per Giannini mi dispiace per Bocca Nera che al solito si è visto sfuggire il suo ruolo da Joker sarà per la prossima volta non rinunciare mai ai tuoi sogni Bocca Nera e un altro motivo per cui vorrò vedere Joker almeno un'altra volta in futuro oltre alla lingua è anche verificare se è possibile vedere le scritte del film in lingua originale chi è stato il genio che ha detto ci sono delle scritte in questo quaderno sapete che c'è traduciamole in italiano come si faceva negli anni 60 invece di mettere dei sottotitoli come si fa al giorno d'oggi non ammettiamo queste scritte palesemente fatte dopo cancellando con photoshop quelle in inglese sostituendole con una calligrafia del cazzo in italiano però non è che traduciamo tutte le scritte no solo quelle del quaderno tutte le altre no tutte le altre in inglese con i sottotitoli come si fa normalmente ma veramente che brutta idea dal primo momento in cui l'ho visto ho detto non ci posso credere ogni volta che io vedevo questo quaderno che si aveva con delle barzellette con delle battute del cazzo però in italiano mi ha fatto troppo strano è veramente disorientante mai più non voglio mai più vedere le scritte tradotte in italiano su schermo su schermo i sottotitoli o niente oppure gliele fai dire dice al doppiatore di leggerle anche se nel film non c'è che poi addirittura c'è un picco c'è una piccola scena proprio tipo 5 frame una cosa velocissima in cui si vede lui che scrive ma chiaramente il movimento della penna non corrisponde poi con la scritta in italiano che c'è dopo che schifo ma io boh che brutta idea niente ho detto tutto stavolta per davvero almeno credo il discorso di prima è sempre valido immagino che a tutti voi sia piaciuto buon per voi cioè ripeto anche a me è piaciuto ma come Joker no come film in sé carino e niente grazie di tutto e noi ci vediamo un prossimo video ciao